9 posti pronto raga, dove si va quindi questo weekend? Citroen Jumpy, 9 posti, vediamolo subito Questo taglio laterale della versione XL, veramente gigantesco, vediamolo meglio Ecco qui gli interni in pelle, che stile raga, stupendi veramente Oh eccoci a bordo di questa fantastica Citroen Jumpy, multispazio di Citroen, 9 posti, raga gigantesco In questa versione super lusso, con i sedili in pelle, XL, quindi ancora più grande 2.0 di cilindrata con 150 cavalli, Carmo Touch con infotainment Si può con il proprio dispositivo mediante Apple CarPlay e Android Auto Navigatore satellitare, c'è tutta la gestione delle impostazioni dell'auto C'è lo start and stop, clima automatico bizona Gli attacchi sui 6 sedili posteriori, davvero ottima Questa raga è perfetta per la famiglia, per portare in giro i vostri amici, per la vostra squadra di calcio Insomma, per qualsiasi cosa abbiate bisogno di tanto spazio Votore diesel, blu HDI, di ultima generazione, mio manuale A diesel con 24.000 km, riservala subito su rattiauto.com Link in descrizione Questi e tantissimi altri veicoli multispazio, sono da RattiAuto Vi aspettiamo qui in showroom, a presto, ciao!